Trovarsi nel bel mezzo di un temporale non è certo un'esperienza piacevole, specie per il rischio di essere colpiti o anche solo sfiorati da un fulmine. In pochi millesimi di secondo in un fulmine passa una corrente di decine di migliaia o addirittura centinaia di migliaia di ampere. Eppure nell'atmosfera possono svilupparsi in particolari condizioni fulmini ancora più energetici che prendono il nome di lampi gamma terrestri o TGF, sigla abbreviata dall'inglese terrestre gamma ray flash. Da alcuni anni c'è un satellite che sta raccogliendo una enorme molle di dati su questi lampi gamma, ma non è stato messo in orbita per studiare l'ambiente terrestre, anzi, si tratta dell'osservatorio per l'astrofisica delle alte energie agile dell'Agenzia Spaziale Italiana. Agile è dedicato allo studio dei fenomeni più estremi che avvengono nelle profondità dell'universo, ma i suoi sofisticati sensori riescono a captare anche segnali di alta energia che provengono dall'atmosfera del nostro pianeta. Ed è grazie a lui, se oggi sappiamo, che i lampi prodotti in temporali, particolarmente intensi, possono accelerare nell'atmosfera particelle a valori estremi di energia, con un impatto sull'ambiente e potenziali effetti anche sugli aerei in volo. Queste evidenze sono state recentemente pubblicate in uno studio che coinvolge personale dell'ASI, INAF, INFN, CNR, Università di Roma Torvergata e Università di Padova, e i risultati sono stati presentati ufficialmente anche a Vienna in occasione del convegno della European Geosciences Union in corso in questi giorni. Oltre allo spazio, Agile è estremamente importante anche per la Terra, perché noi continuiamo a rivelare centinaia di lampi terrestri gamma, Agile ha una possibilità unica di studiarle alle energie più alte che arrivano addirittura fino a 100 MeV, e questo è un database enorme che stiamo accumulando, che tra l'altro è molto importante per studi sul clima, meteorologia, studio dell'atmosfera, e quindi è un'unione tra astrofisica e scienza della Terra, che è estremamente importante anche dal punto di vista, se volete, concettuale, fa vedere come missioni, pensate, per studiare oggetti molto lontani, sono molto utili per migliorare le nostre condizioni a Terra. L'attenzione del gruppo italiano, che indaga da diversi anni su questi fenomeni, si sta concentrando sull'influenza che i lampi gamma terrestri, seppur in particolari condizioni, possono avere anche sugli aerei in volo, dall'elettronica di bordo agli effetti fisiologici sui passeggeri, eventi potenzialmente rari, ma da non trascurare. Per questo sono in programma nuove misurazioni sia a terra che in volo per comprendere con maggior precisione i TGF e migliorare così la sicurezza del volo aereo.